Cari amici, ben ritrovati e buon venerdì, e quindi ben ritrovati ad un nuovo vlog, l'appuntamento ogni venerdì, lo sapete, con il CD della settimana, più un giveaway, quindi la possibilità di vincere un disco nuovo e riceverlo direttamente a casa vostra. Le modalità sono molto semplici, ormai le sapete, bisogna semplicemente iscriversi al canale, cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati, mettere un mi piace, lasciare un commento se volete. E poi tramite piattaforma random estraiamo il fortunato vincitore. Di cosa parliamo quest'oggi? Beh, quest'oggi presentiamo questo bellissimo disco dell'etichetta Lehman, sul CD Classico peraltro abbiamo un'intervista scritta, la potete leggere, al fondatore di questa etichetta, un'etichetta discografica davvero unica nel suo genere, che sta vivendo di fatto una seconda fase della sua esistenza. Lehman, etichetta italiana, italianissima, che fin dall'inizio ha puntato su questo doppio formato, ossia su un cofanetto dove accanto al CD audio c'era anche il supporto video, quindi il DVD, il filmato della registrazione. Oggi le cose sono un po' cambiate, nel senso che abbiamo solamente, come potete vedere, solamente il CD, peraltro come vi consiglio qui nell'angolino vi lascio la cover del disco. Che cosa distingue Lehman dalle altre etichette? Beh, innanzitutto quella di dare spazio ovviamente ai giovani talenti, e anche quello di essere un po', come dire, nata per audiofili, per coloro che ricercano anche qualcosa di veramente alto dal punto di vista della qualità, e anche se vogliamo, da un certo punto di vista, anche qualcosa di esclusivo. Ognuna di queste copie è infatti numerata, vedete, copia numerata, io qui ho la versione, la copia numero 80 di 500 tirature. Che cosa succede oggi? Che chi acquista il disco ha solamente il CD audio, poi c'è un codice, che adesso qui vi copro ovviamente, qui c'è un codice che vi permette una volta registrati sul sito di accedere ai contenuti extra, quindi in questo caso anche al video. Ma veniamo alla registrazione, allora, Silvia Mazzona al violino, Marcello Mazzoni al pianoforte, ci presentano il primo volume di un progetto dedicato a Johannes Brahms, e in particolar modo, in questo caso, alle tre sonate per violino, le tre sonate per violino di Johannes Brahms, che appartengono alla maturità, alla piena maturità del compositore. Siamo intorno al 1879-1890, in questo periodo sono varie le composizioni, ricordiamo appunto la sonata per violino opera 78, che è quella che apre appunto il CD, poi abbiamo il trio opera 87, il quintetto per archi opera 88, poi la sonata per violoncello opera 99, la sonata per violino e pianoforte, la maggiore opera 100, che appunto è la seconda che troviamo in questo disco, e anche evidentemente la sonata opera 108. In questo arco, quindi dal 1879 al 1890, Brahms compone ben nove composizioni in totale, molta, ovviamente, musica cameristica, ma nello stesso periodo comporrà la terza e la quarta sinfonia, il concerto per violino e il concerto per pianoforte, l'ouverture accademica e l'ouverture tragica, brani pianistici, insomma, davvero è il periodo di massimo splendore, forse bramsiano. E questa è una bellissima interpretazione, davvero, che ci viene offerta dal duo Silvia Mazzone e Marcello Mazzoni, devo dire, da avere per scoprire anche dei nuovi interpreti alle prese con un repertorio piuttosto noto. Questa è il CD della settimana, lo propone LIMEN, con il primo volume di questo progetto bramsiano. Ma qual è il disco che potete vincere tramite il nostro giveaway? Bene, ce lo propone quest'oggi ELEGIA, siamo dunque in collaborazione con l'etichetta ELEGIA, un'etichetta che si è fatto il nome soprattutto in questi ultimi anni per l'attenzione rivolta verso le produzioni organistiche, ma non solo, in questo caso infatti abbiamo un programma bacchiano con Luca Scandali all'organo, primo volume, Johann Sebastian Bach, Complete Italian Organ Concertos, quindi tutte quelle composizioni che Bach creò a partire da sublimi modelli italiani. Quindi in questo caso ovviamente Vivaldi dall'Opera 3, dall'estro armonico, ma non mancano anche composizioni di Alessandro Marcello come il concerto Il Re è minore. È un bellissimo disco che utilizza un organo dell'Orto e Lanzini, Vigliano-Biellese, un disco piuttosto interessante, un disco per amanti dell'organo, ma non solo, devo dire, per amanti di Bach e l'organo e di quanto Bach anche stimasse appunto questi esempi italiani, quindi Vivaldi su tutti, ma anche evidentemente altri compositori come Benedetto Marcello. Qui è la cover come di consueto, mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, lasciate un commento, un mi piace e provate a vincere questo disco. Da parte mia è davvero tutto, quindi buon weekend a tutti voi, ci risentiamo per il nuovo vlog venerdì prossimo, ma insomma come vedete sto cercando di essere sempre più attivo con i video, quindi anche in settimana ci saranno altri video, ce n'è un altro caricato da pochissimo sull'ultimo disco di Vangelis, pubblicato da Dec, andatelo a vedere se non l'avete ancora fatto. È davvero tutto da parte di Gabriele Formenti, grazie a risentirci. Grazie a tutti.